Ci colleghiamo adesso con Ivana Costa telefonicamente perché il collegamento video è saltato e chi è Ivana Costa ce lo dice direttamente Ivana, ciao Ivana Buonasera a tutti voi, sono felice di essere con voi questa sera, anche se distanti ma per ragioni molto delicate non ho potuto presenziare e essere lì a rassolini con voi sono felice e onorata di ricevere questo premio per mia donna e come dissi già accorrato per telefono questo premio ha dato molta gioia anche alla mia famiglia, non solo a me ma anche alla mia famiglia trascorrendo un periodo molto delicato veramente sono onorata di questo premio e grazie perché apprezzate il mio impegno il mio impegno sociale che è a sostegno delle vittime innocenti di mafia questo impegno per me è un impegno inderogabile, un dovere verso la società tutta e grazie a questo impegno sociale questo impegno sociale vorrei ringraziare una persona a me cara, un amico fraterno che è Carmine Marcuso, vittima dell'agente di mafia è il figlio della valoroso poliziotto, maresciato di polizia di Elin Marcuso che attraverso la sua associazione, l'associazione per onorare la memoria dei caputi nella lotta contro la mafia ha accorto la mia volontà di contribuire a questa battaglia a sostegno delle vittime innocenti di mafia quindi mi dà voce e questo è importante per me perché il mio impegno è quello di portare a conoscenza a più persone possibili le storie delle vittime innocenti di mafia le storie delle vittime in generale e anche del dolore delle famiglie cerco di attenzionare le persone che molte di queste vittime non hanno avuto giustizia oppure una giustizia a metà, le mezze verità e questo non va bene inoltre ti tengo anche importante quando parla di persone far capire che anche se molti di questi delitti eccellenti sono ormai trascorsi anche più di 40 anni non vuol dire arrendersi ma bisogna cercare sempre la verità e giustizia a volte le persone mi dicono di lasciare stare perché ormai sono trascorsi troppi anni ormai è questione del passato quindi è necessario comunicare ma questo non va bene perché è importante far presente che il dolore delle famiglie delle vittime innocenti di mafia è un dolore che non passa mai anzi aumenta di anno in anno quando non si ha la giustizia la verità è giustizia e inoltre faccio sempre presente che accanto al dolore delle famiglie si mettono anche altri sentimenti che ad esempio la rabbia, la delusione e lo sconforto quindi cerco sempre di far capire alle persone l'importanza di queste storie e di far capire alle vittime che non sono sole, non sono lasciate sole che noi ci siamo e per me questo è importante è importante perché devono avere bisogno di uno stimolo per andare avanti un motivo per cui mi ringrazio di vero cuore per questo premio questo premio che mi consola e mi conforta che dedico in primo luogo alla mia famiglia che mi sostiene sempre sia nei miei studi ma anche nelle mie attività di volontariato e poi soprattutto lo dedico anche a tutte le vittime di mafia le vittime innocenti di mafia e ogni vittima di qualsiasi genere perché è importante dare voce a tutte le vittime e anche a voi tutti che avete apprezzato il mio lavoro il mio volontariato che spesso molte persone effettivamente in questa materia un po' si allontanano perché temono varie ritorsioni quindi vi ringrazio veramente di cuore questo premio per me è uno stimolo di andare avanti senza mai fermarmi e portare indietro settimana ti faccio sentire il tributo della Sicilia al giudice Gaetano Costa mi fanno attivare il grazie per tutto quello che fai grazie a voi e riferirò questo applauso all'avvocato Michele Costa che sarà veramente felice che è il figlio del giudice quindi sarà veramente felice di questo vostro applauso questo vostro ringraziamento continuo a combattere per i diritti delle vittime della mafia siamo con te dalla Sicilia un altro grande applauso grazie a Ivana l'avremo presso in una delle nostre manifestazioni ovviamente per motivi di sicurezza non può venire in Sicilia però faremo in modo di averla in Sicilia grazie a tutti